A Catanzaro la fibra ottica arriva direttamente a casa. Il comune ed Open Fiber, società del gruppo Enel creata per costruire una rete di accesso indipendente su fibra, hanno stipulato una convenzione per realizzare un'infrastruttura in modalità FTTH, Fiber to the Home, cioè la fibra ottica stesa fin dentro casa, l'unica in grado di restituire velocità di connessione al web fino a un gigabit al secondo, con una latenza inferiore ai 5 millisecondi. Per capire la differenza basta dire che la DSL, il sistema di accesso digitale più diffuso, viaggia a 20 megabit al secondo e dunque ad una velocità 50 volte inferiore. Open Fiber investirà 9 milioni e mezzo di euro per il cablaggio di più di 37.500 unità immobiliari. Complessivamente 677 chilometri di fibra ottica avvolgeranno i quartieri di Catanzaro, dal centro alle periferie. I lavori avranno un impatto ambientale minimo perché si interverrà quanto più sarà possibile sulle infrastrutture di rete già esistenti e con scavi che privilegeranno metodologie innovative e non avranno costi per il comune, visto che Open Fiber assicurerà la gestione e la manutenzione della rete per tutta la durata della convenzione. I cantieri partiranno una volta concluse le fasi autorizzative preliminari e i lavori dovrebbero durare circa 18 mesi. L'infrastruttura si estenderà per 200 chilometri, 59 dei quali realizzati attraverso il riuso di reti aeree ed interrate già presenti in città. Una rete integralmente in fibra ottica che, come spiega il responsabile dell'area sud di Open Fiber, Emanuele Briulotta, offre un servizio che dà beneficio all'intera collettività, dalla telemedicina al telelavoro, dall'educazione a distanza alla videosorveglianza ad altissima definizione. I lavori consistono nel portare la fibra fin dentro le abitazioni, con un progetto quindi che si differenzia notevolmente da tutti quelli fatti fino ad ora, che era un misto fra fibra e rame e che quindi non consentivano di poter arrivare a queste velocità. I lavori dureranno 15 mesi, collegheranno l'intera città, circa 35.000 unità immobiliari. Saranno realizzati con investimenti totalmente privati, quindi nessun utilizzo di fondi pubblici, un investimento di 9 milioni e mezzo. Stenderemo circa 700 chilometri di fibra. Alla fine di questi lavori diciamo che non solo i singoli abitanti di Catanzaro potranno viaggiare a connessioni vicine a quelle di tutto il resto dei cittadini delle maggiori capitali d'Europa, ma le pubbliche amministrazioni potranno avviare e completare il processo di digitalizzazione che senza una connessione veloce è impossibile realizzare. Le piccole e medie imprese potranno finalmente accedere ai servizi dell'industria 4.0, quindi tutti i servizi che oggi vanno per la maggiore, la domotica, l'informazione a distanza, la telediagnosi, la telemedicina e quindi diciamo che con questi lavori Catanzaro completerà la sua opera di modernizzazione. Per il sindaco Sergio Abramo la collaborazione fra Comune ed Open Fiber permette a Catanzaro di entrare a pieno titolo nella strategia italiana per la banda ultralarga che nel resto della Calabria sta ancora muovendo i primi passi. Avere questa nuova rete qui a Catanzaro è importantissima, poi un investimento di circa 8 milioni di euro a costo zero per l'amministrazione comunale, quindi è un grande vantaggio per tutti quelli che oggi usano le tecnologie, quindi è una cosa che ci aspettavamo da tempo e finalmente è arrivata.